Qui con Michele Santucci alla conclusione del match tra Ostia Mare e Tordi Quinto gara valevole per la sedicesima giornata del campionato regionale dei giovanissimi ad eccellenza grande protagonista proprio Michele Santucci autore di una doppietta nel 3 a 0 inflitto dai Bianco Viola alla formazione di Vergari allora Michele raccontaci queste sensazioni del dopo partita non è stata una partita difficile complicata sia inizio sia anche durante la settimana ci siamo preparati bene siamo andati in campo abbiamo dimostrato che siamo una buona squadra che può andare a giocare i finali che anche lo può vincere questo campionato senti addirittura può vincerlo secondo te? si sanno le caratteristiche e le qualità per vincere questo campionato abbiamo visto una grande prestazione di tutta la squadra una vittoria fondamentale che vi ha permesso di agganciare proprio il Tordi Quinto al terzo posto e di andare in vantaggio negli scontri diretti? si si sono stati tutti forti dal primo al diciottesimo ragazzo che stava in panchina ora siamo su per scontri diretti però sempre a pari punti quindi non dobbiamo fare passi falsi bisogna appunto adesso proseguire sull'onda anche di questa vittoria e continuare in queste prestazioni dobbiamo funzionare così e vincere tutto fino alla fine senti una doppietta a chi vuoi dedicarla? alla famiglia mia al Mise e a tutti quelli che stanno qua oggi a portare la partita abbiamo visto grande tifo anche i fumogeni striscioni d'accordo allora grazie della cortesia complimenti ancora per la tua prestazione e in bocca al lupo credi? arrivederci